Questa è buona! Dopo 300 metri di corsa è in vantaggio tra la Lera, davanti a Costabi, Patos d'Amore, Pamoya, Piccola Gradatice, Rivergaro, Bracamonte, Sinaloa e Prussian Shift. All'inizio della curva è in vantaggio tra la Lera, davanti a Patos d'Amore, Costabi, Rivergaro, Piccola Gradatice, Prussian Shift, Sinaloa, poco prima dell'ingrazione di Tura, è sempre in vantaggio tra la Lera, davanti a Patos d'Amore, Rivergaro e Costabi. I cavalli entrano in dirittura, con tra la Lera in vantaggio, attaccata all'esterno da Patos d'Amore e Piccola Gradatice, seguono Rivergaro, Costabi, Bracamonte, Prussian Shift. All'interno è tra la Lera, all'interno Costabi e Patos d'Amore, a centropista Piccola Gradatice, in leggero vantaggio Piccola Gradatice, davanti a Patos d'Amore e Costabi, all'interno è Patos d'Amore, all'esterno Piccola Gradatice, all'interno Costabi e Bracamonte. potere per dire che è stato un arrivo formidabile, ha trovato Stavore, come Cagnatice, ma credo che sia il momento di Napoli. Possiamo vedere, possiamo vedere anche per l'azio, chi è l'azio, ha detto bene... No, Gabriele a volte vuole a dire che l'azio è quella che ha dato lui, eh? Esatto, è fatto 4-5, è a centroposto il numero 2, è costatito. Comunque vediamo se è 4-5, che la quota è strettissima, è il jaloppo, 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 ha montato dal fenomeno, ha montato dal fenomeno, piccola cariatrice, chiude il triplo, il multiplo segnalato da Piero Celli, poi daremo la quota e diremo quanto ha sviluppato, e la trio anche segnalata da Piero Celli. Tutto a segno, andiamo qui da Napoli, nella settima volta con San Gerson Andrae, e da Marto di Piero Celli, chiude la vita di Pianco.